Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle notizie dal Veneto e agli aggiornamenti. Operazione contro gang giovanili in tutta Italia, perquisizioni, sequestri e arresti anche a Padova. Nell'ambito di un progetto neo introdotto dal Servizio Centrale Operativo di Roma, che ha visto un analogo impiego operativo in altre grandi città del nord, centro e sud Italia, i poliziotti della squadra mobile di Padova, con l'ausilio dei reparti prevenzione e crimine di Padova e unità della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo, hanno compiuto diversi interventi in contesti di criminalità giovanile, effettuando diverse perquisizioni di iniziativa, ma anche su delega della Procura della Repubblica di Padova, effettuati controlli anche nei luoghi di ritrovo abituali dei giovani. Sono stati identificati 267 ragazzi, di cui 89 minori. Ne sono stati denunciati 6, di cui 3 minori, e traendone in arresto 4 per spaccio di sostanze stupefacenti. E adesso invece parliamo di controlli nelle sale slot di Padova e provincia. Le multe sarebbero numerose, ma sentiamo un bilancio di questa attività. Sale slot, raffiche di controlli e sanzioni per i gestori. Nel mese di dicembre il questore di Padova ha disposto un'intensificazione di controlli amministrativi negli esercizi commerciali nel settore di giochi e scommesse tra Padova, Piove di Sacco, Campo d'Arsego e Monselice. I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane. Solamente nella giornata di ieri si è registrata una pioggia di verbali e anche di denunce. Una prima attività di controllo ha riguardato una sala scommesse a Padova, in zona Camin. Sono state identificate 7 persone e il titolare di origine cinese. Durante l'accertamento è stata riscontrata l'installazione di un post per il pagamento elettronico con carte di credito e bancomat. Nella sala VLT le vetrate sono state oscurate da alcuni pannelli. All'interno di una sala scommesse a Campo d'Arsego, in via Bassaprima, sono stati identificati 12 avventori e il titolare di origine cinese. Nel corso dell'attività è emerso che la sala era condotta da una dipendente per la quale il titolare di licenza non aveva richiesto la rappresentanza. Altre attività hanno riguardato due sale scommesse a Piove di Sacco, in via Carrarese e in via Valerio. Sono stati identificati 12 avventori e i titolari, uno italiano e uno di origine cinese. È stata riscontrata, in entrambi i casi, l'installazione di un post per il pagamento elettronico con carte di credito e bancomat. Sono state inoltre elevate al titolare sanzioni amministrative per la mancata esibizione della licenza che autorizza la somministrazione accessoria di alimenti e bevande e l'assenza del previsto precursore alcol test per il rilevamento del tasso alcolemico. A Padova questa mattina in Sala Bresciani è stato presentato il protocollo per il prolungamento del SIR 3 fino al comune di Legnaro e Agripolis, sottoscritto tra il comune di Padova, il comune di Legnaro, Ponte San Nicolò, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, l'Università di Padova, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e APS Holding. Si tratta di un atto formale che di fatto sancisce la collaborazione tra gli enti al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili per l'allungamento della tratta della trama. E adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza eseguita a tutela della salute pubblica. Sono state sequestrate 210 tonnellate di pellet, sarebbe tutto materiale non sicuro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno proceduto al sequestro di oltre 210 tonnellate di pellet ritenuto non sicuro. L'operazione ha origine da un controllo effettuato presso la stazione di servizio Fratta Nord lungo il tratto autostradale A4 in direzione Venezia. Tra i mezzi pesanti che stavano effettuando la propria sosta è stato individuato un auto articolato slovacco il cui conducente, alla richiesta di esibire la documentazione di scorta del carico trasportato, consegnava documenti che riportavano diverse cancellature e date non compatibili con il percorso effettuato. Per tale motivo i finanzieri hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, rinvenendo 21 tonnellate di pellet divisi in sacchi di plastica. Dai successivi accertamenti è stato constatato che l'azienda slovacca produttrice del pellet non era più autorizzata da tempo a commercializzare il prodotto in quanto non rispondente alle qualità imposte dalle normative europee. Sono tuttora in corso le analisi di laboratorio per accertare o escludere la presenza di eventuali sostanze chimiche tossiche e nocive. Ci spostiamo a Venezia, prosegue l'attività di controllo della polizia locale nell'ambito del progetto per un ambiente urbano più sicuro e antidegrado. Durante l'anno sono stati 75 gli interventi effettuati tra Mestre e Marghera. Sono state denunciate una quarantina di persone con l'impiego di numerosi agenti e anche di unità cinofile. Due nuovi sgomberi sono stati effettuati nella giornata di ieri. Uno in via Ferraris alla rotonda Pacinotti presso l'area in disuso di proprietà di una società operante a livello portuale e uno presso un fabbricato in stato di abbandono in via Forte Marghera e di proprietà del Demanio. Nel primo intervento in uno dei fabbricati presenti all'interno dell'area era stata divelta la recinzione. era stata sostituita con una grata chiusa con del filo di ferro e utilizzata come accesso. Durante lo sgombero sono stati identificati due soggetti di nazionalità rumena. Successivamente è stato effettuato anche lo sgombero nello stabile di Forte Marghera dove sono stati trovati anche sei giacigli di fortuna. Durante l'intervento sono state impiegate anche le unità cinofile antidroga del corpo. Parliamo di un'esercitazione dei vigili del fuoco che si è tenuta presso il polo petrolchimico di Marghera. È stato simulato un incidente. Sentiamo. Si è svolta presso il polo petrolchimico di Marghera l'esercitazione nucleare biologico-chimica-radiologica dei vigili del fuoco per testare l'operatività del soccorso in caso di scenari emergenziali con presenza di sostanze pericolose. Lo scenario ha previsto lo svio di un vagone ferro-cisterna che trasportava acido fluoridrico con il coinvolgimento di tecnici che sono rimasti feriti. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sullo scenario incidentale hanno gestito il delicato intervento effettuando il rilevamento della perdita, la tamponatura, lo svuotamento della ferro-cisterna e il contemporaneo soccorso delle persone ferite. È stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi presso la sala operativa della prefettura della sede dei vigili del fuoco di Mestre. I vigili del fuoco aziendali hanno preso parte all'esercitazione assieme al personale sanitario. A coordinare le operazioni di soccorso il responsabile NBCR regionale dei vigili del fuoco. Adesso parliamo ancora di territorio, andiamo in provincia di Padova, San Giorgio delle Pertiche dove questa mattina si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo asilo comunale che sarà realizzato con i fondi PNRR e in tempi molto rapidi. A San Giorgio delle Pertiche cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra del nuovo asilo nido comunale. Un'opera importante per il territorio sorgerà in via Zuanonna di fronte agli impianti sportivi. Il cantiere partito oggi sarà terminato entro la primavera 2025. Alla cerimonia era presente l'amministrazione comunale. Sentiamo il sindaco Daniele Canella. Sì, una giornata bellissima per la nostra comunità dove non abbiamo solo posato la prima pietra di un edificio ma abbiamo posato la prima pietra per il futuro e per le prossime generazioni. Contiamo proprio che in questa scuola, in questo asilo nido, si possa dare risposta a quella che è l'esigenza delle giovani famiglie, delle giovani coppie e che anche grazie a questa scuola, le giovani coppie e le famiglie scelgano San Giorgio delle Pertiche per venire a abitare e per crescere con orgoglio i propri figli. Quindi è un momento davvero importante e con l'auspicio che questo momento segni il futuro della nostra comunità e che si possa continuare ad essere uno dei pochi comuni appunto con il saldo positivo di nascite che ci fa ben sperare per il futuro. Si tratta di un investimento di 1.650.000 euro finanziato con risorse PNRR. Sarà possibile la costruzione di un edificio moderno e funzionale che potrà ospitare fino a 48 bambini. Ospiterà 48 bambini divisi in tre tipologie, lattanti, divezzi e semi divezzi e sarà sicuramente un polo di riferimento non solo per il territorio dei nostri tre paesi, San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino, ma anche per i territori circostanti. Questa la dedica che è stata impressa sulla prima pietra dell'opera. Alle generazioni future che in questo edificio inizieranno il loro percorso di crescita, educazione e istruzione affinché in questo luogo possano compiere con decisione il primo vero passo del grande viaggio chiamato vita che li porterà a essere i cittadini del domani su cui si fonderà il futuro della nostra comunità. Dobbiamo invertire il trend demografico che rappresenta un problema sempre più evidente nel nostro paese e iniziative come questa aiutano sicuramente a garantire condizioni economico-sociali migliori per mettere al mondo bambino. A Padova è partito il progetto per ampliare l'offerta di servizi per gli ospiti dell'asilo notturno che si trova in via Torresino, realizzato dal Comune con la collaborazione dell'Associazione Padova Ospitale ODV. Si tratta della fornitura della colazione all'interno della struttura da distribuire agli ospiti per quattro mattine a settimana e alla fornitura di prodotti per l'igiene interamente donati dall'Associazione. Dato che la struttura non è dotata di refettorio e cucina né di personale addetto alla somministrazione di beni alimentari, la scelta è andata verso la distribuzione di prodotti preconfezionati come brioche e succhi di frutta. Il progetto che è stato chiamato Risveglio Ospitale ha preso il via proprio questa mattina e avrà la durata di tre anni. Adesso andiamo all'ospedale di Mirano dove i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria hanno avuto qualche momento un po' più spensierato. Sentiamo perché hanno ricevuto una visita speciale. Una delegazione di Vigili del Fuoco, composta da personale del distaccamento volontario di Mirano, assieme al capo servizio del comando di Venezia, si è recata presso il locale ospedale per portare un saluto ai bambini ricoverati. I Vigili del Fuoco hanno incontrato il personale sanitario del reparto a cui hanno consegnato dei dolci natalizi e piccoli doni per i bambini presenti. La squadra ha poi salutato in sicurezza i piccoli degenti accendendo le luci dell'autopompa e suonando per un attimo la sirena mentre i bambini salutavano i pompieri dalle finestre. L'iniziativa per distrarre i piccoli degenti contribuendo a portare un momento di gioia e curiosità durante il periodo di ricovero. Nonostante la fisiologica flessione registrata nell'ultimo mese rimane positivo il bilancio occupazionale del mercato sul lavoro Veneto nell'arco di questo 2023 che tra gennaio e novembre registra un aumento di 48.200 posizioni di lavoro dipendente un risultato migliore sia rispetto allo scorso che al periodo pre-pandemico del 2019. Anche l'ammontare delle assunzioni complessivamente 590.000 in questi 11 mesi continua a essere il più alto osservato nell'ultimo quinquennio. Cresce in particolare il reclutamento di lavoratori più maturi un più 4% è stato registrato tra gli over 55. Il saldo del solo mese di novembre è negativo come sempre in questo periodo dell'anno risulta condizionato dal posticipo della chiusura della stagione turistica estiva oltre che da un nuovo rallentamento della domanda di lavoro in alcuni comparti del settore industriale. Il bilancio del 2023 è positivo in tutte le province del Veneto con l'eccezione di Belluno che riporta meno 1.800 posti di lavoro. E adesso l'appuntamento è con la nostra rubrica di storie allora salutiamo, diamo il benvenuto come sempre all'esperta Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia oggi parliamo dei cavalli lipizzani famosi per la loro bellezza e la loro eleganza e per aver trainato le carrozze di re e regine e allora conosciamo la loro storia. I cavalli lipizzani sono di origine miteleuropea ed asburgica. Le prime documentazioni risalgono al 1580 quando l'arciduca austriaco Carlo II acquistò dal vescovo di Trieste un villaggio di Lipizza, località attualmente slovena per realizzare un allevamento per cavalli adatti alle carrozze e alle cavalcate. In questo allevamento giunsero le prime fattrici dalla Quireia, dal Polesine e dal Veronesi e gli stalloni dall'Andalusia, una regione della Spagna. Con tali incroci nacque il cavallo lipizzano divenuto famoso tant'è che successivamente, 1729 un altro arciduca, Carlo VI di Vienna diede vita alla scuola di equitazione chiamata la Spagnola appunto per la forte presenza di esemplari che provenivano dalla Spagna. Ma vediamo le caratteristiche di questo cavallo che è un cavallo armonioso, intelligente adatto all'addestramento con arti molto forti e poi ha un mantello particolare grigio, chiarissimo e bianco. Inoltre è longevo perché la sua vita media va dai 20 ai 30 anni ed ha un peso che varia dai 480 ai 550 kg. Non ebbe sempre vita facile il cavallo lipizzano perché durante il periodo del congresso di Vienna e siamo 1815 entrò in crisi il settore se ne occupò ci pensò l'imperatore Francesco Giuseppe che iniziò la costruzione di edifici e la salvaguardia delle sei linee di questa specialità. Andiamo oltre finisce l'impero asburgico 1918 con la prima guerra mondiale e si allarga l'allevamento di questi esemplari di questi cavalli in Croazia, in Romania, Ungaria e altri paesi. Dicevamo il nome Lipizzani deriva dalla località Lipizza ripetiamo di territorio sloveno e qui è un territorio carsico con la presenza di logi carbonatiche che sono adatte allo sviluppo di questi cavalli e vantano di avere zoccoli tra i più compatti. i cavalli sono entrati come bene nell'UNESCO e sono tutelati appunto per le loro specialità e a noi non resta che ammirare la loro bellezza e la loro eleganza come dicevamo. Grazie a Marisa Sottovia per la rubrica di storia ed ora diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per questo fine settimana. pressione in aumento fino a raggiungere molto valori elevati in particolare domenica per l'espansione di un vasto campo anticiclonico dall'Atlantico. Da domenica temperature in aumento in quota e accentuazione dell'inversione termica. Il tempo sarà stabile per tutto il periodo ben soleggiato sui rilievi ma con l'insidia delle foschie e delle nebbie in pianura e nei fondovalle nelle ore più fredde ma via via più fitte e persistenti con il passare dei prossimi giorni. Si chiude questo spazio dedicato all'informazione dal Veneto alle ultime notizie tra poco ancora news a cura di Talpress 24 vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.